Un tempo, il nostro pianeta era dominato dai dinosauri. Camminavano dove camminiamo noi. Bevevano la stessa acqua. Respiravano la stessa aria. E si battevano sullo stesso terreno. Poi venne un giorno che possiamo solo immaginare. Uno dei momenti più critici nella storia della vita sulla Terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.